Ok, stealing allora, mi dicono dall'allergia che c'è stealing, ho invertito io in cose. Allora ragazzi, qui c'è stealing, ok? Ok, qui non è velocissimo però, giusto per coinvolgerci un po' di più, possiamo anche sempre lavorare con le mani, eh? Come on! Cause I need some place to hide, I don't know the rest of my time, and I'm sure the heart is bright. Well, there's a hundred miles of jeseno life between his heart and mine. Al prossimo episodio Come on Come on Come on Come on Come on Ha perso i videochiari Nel pulsaggio Ha perso i videochiari